La storia è un'altra storia 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 Grano antico cosa si differenzia rispetto ai grani moderni? Sono farine auto-octone, quelle che originariamente venivano coltivate qua da noi e che sono più rispondenti al territorio quindi portano in sé tutte le caratteristiche organolettiche più naturali e più consone alla nostra terra Quindi diciamo un grano più sostenibile per il pianeta Esatto, non sono grani che percorrono centinaia, migliaia di chilometri come quelli che vengono portati dal Canada oppure da tanti paesi molto lontani e soprattutto sono grani che hanno maturato sotto il nostro sole Che res hanno come tipo di farina? Possono avere diverse rese Alcune varietà possono anche darci delle farine sufficientemente forti per la panificazione intesa come panificazione moderna ci si avvicina parecchio ovviamente accontentandosi di vedere gonfiare un pochino di meno il pane però allo stesso tempo abbiamo un prodotto molto più salubre Che altro tipo di utilizzo possono avere? Nella pasticceria in generale possono essere utilizzati per fare dei dolci che hanno un tasso glicemico molto inferiore Inferiore a cosa esattamente? A quello che normalmente c'è nelle farine 0 e 00 che non avendo frusca dove il grano è stato separato dalla frusca appunto sono composti soltanto da carboidrati che poi nella digestione diventano zucchi e quindi alzano di parecchio il picco glicemico Dov'è possibile trovare il suo libro? Il mio libro si trova su internet, sul sito di Terra Nuova su vari siti di vendita di libri nelle librerie Feltinelli e in altre librerie più sensibili al discorso della salubrità degli alimenti Ricordiamo il titolo? Pasticceria con grani antichi edito da Terra Nuova Firenze Grazie! 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 Grazie!